Rocco Ricci, figlio di Madonna e del regista Guy Ricci, ha detto di essere felice di non vivere più con la madre. Il ragazzo sedicenne ha pubblicato su Instagram un video che ritrae la sua famiglia, tra cui la famosa pop star, durante una mannequin challenge e ha scritto sono davvero felice di non vivere più qui. Poi forse, dopo aver ricevuto molti commenti negativi da fan di Madonna, ha deciso di cancellare il post, che ormai era stato però già ripreso da diversi giornali online.